Dylan Dog è morto. Lunga vita a Samuel Stern. Bentornati i nomi ammazzati sul mio canale YouTube Noma Mammazzo. Oggi parliamo di fumetti e parliamo appunto di un fumetto tutto italiano che potrebbe diventare il nuovo Dylan Dog. Non lo so, ne parliamo proprio adesso. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace così a fiducia su questo video e anche sugli altri sempre a fiducia, di attivare la campanella delle notifiche e di condividere il video con tutte le persone che amano il paranormale. Perché il paranormale? Perché parliamo di, faccio vedere, Samuel Stern. Allora, praticamente, innanzitutto parliamo della casa editrice che è la Bugs Comics e non è la Bonelli, nonostante il formato sia quello tipicamente bonelliano. Si può anche dire che è un formato tipicamente italiano, tipicamente europeo però, per esempio, ci sono altre case editrici italiane che non hanno questo formato. La storina di Diabolic non ha mai avuto questo formato. Quindi è un formato abbastanza riconoscibile da noi italiani come un formato bonelli. Quindi ci trovi un attimino in inganno, in modo bonario, eh, lo intendo. E anche, infatti, sono stato attirato da questo fumetto, innanzitutto perché me lo hanno caldamente consigliato. Ringrazio Nicola che me lo ha caldamente consigliato. E quando l'ho visto ho detto ah, un nuovo personaggio Bonelli, parla il titolo di Samuel Stern 1, è il nuovo incubo, e ho detto, cavoli. Un altro Dylan Dog in casa Bonelli, c'è anche già Martin Mister. E invece no, è invece della Bugs Comics. Quindi sono andato a vedere chi è la Bugs Comics. Innanzitutto è italiana, italianissima. Sono dei giovani autori di Roma, hanno sede a Roma, hanno aperto questa casa editrice nel tardo 2014. Hanno avuto già un loro stand a partire dal 2015 presso il Luca Comics, dove appunto pubblicano diversi fumetti. Oltre a questi ho visto che grosso modo il tema è appunto quello del paranormale, questo è quello un attimino più esoterico, però anche gli altri ci sono mostri, alieni e così via. Magari vi metto il link in descrizione del loro sito ufficiale e dei siti dove acquistare i loro fumetti. Parliamo di Samuel Stern, che nasce proprio dalla penna, dalla fantasia, dalla mente di uno dei fondatori della Bugs Comics. che è, scusate se lo leggo, Gianmarco Fumasoli. Quindi in un certo senso, più che un Dilan Dog per la Bugs Comics, questo Samuel Stern è come se fosse il Tex della Samuel Stern, perché appunto Sergio Bonelli all'epoca, oltre a essere editore, era anche sceneggiatore e creatore di Tex. E così è Gianmarco Fumasoli per Samuel Stern. Quindi lui è sia l'editore della Bugs Comics, sia l'autore di Samuel Stern. Samuel Stern chi è? Perché ho detto è il nuovo Dilan Dog. Innanzitutto, oltre al formato tipicamente bonelliano, hanno avuto una mossa fantastica, secondo me anche a livello di marketing. non so se voluta o per le vie del Signore che sono infinite, è uscita proprio a novembre 2019, ovvero proprio in contemporanea con la fine del ciclo della meteora di Dilan Dog e si può dire anche con la fine totale del ciclo di Dilan Dog nato da Tiziano Sclavi. Perché come chi sta seguendo Dilan Dog in questo momento, che è arrivato al numero 400, che è un numero commemorativo, appunto, dove si taglia per sempre il filo, la testa, se così vogliamo dire, delle eredità letteraria di Tiziano Sclavi per iniziare un nuovo ciclo, primo un miniciclo di sei storie, ma in generale un nuovo ciclo che è totalmente sbrigliato dall'ombra, dalla possenza editoriale di Tiziano Sclavi e totalmente affidato a Roberto Recchioni. Questa cosa, come si sa, non è un segreto, non piace a tutti perché, appunto, Roberto Recchioni ha uno stile di scrittura molto, in un certo senso molto diverso da Sclavi, sono anche altri tempi, e questo dà un'impronta diversa a Dilan Dog. Dilan Dog che non si riesce a inquadrare in un certo senso, diciamo, perché appunto non è più il Dilan Dog delle origini, ma allo stesso tempo è troppo stantio, insomma, ci sono ognuno a dice la sua su Dilan Dog, c'è chi lo vorrebbe sempre cristallizzato nel tempo, chi invece pensa che sia ancora troppo cristallizzato dovrebbe evolversi, Dilan Dog è in una strada a metà e quindi non piace a nessuno, cioè nel senso l'aria che gira è questa, poi non è vero che non piace a nessuno, però l'aria che si sente è questa. È anche vero che siamo in un'era di social dove nessuno è mai contento e lamentarsi è lo sport principale dei leoni da tastiera, però tant'è che queste opinioni hanno origine da qualche parte, da un certo dissenso popolare. E Samuel Stern si va a ficcare proprio lì, proprio dove Dilan Dog in un certo senso finisce con un nuovo incubo. Allora, innanzitutto ci sono molte analogie con Dilan Dog, per esempio anche questo personaggio vive in Gran Bretagna, non vive a Londra, vive ad Edimburgo, si occupa di questioni esoteriche, paranormali e ha un amico barra amico un po' più grande, non dico mentore, che può essere una sorta di ispettore blocca, che però in questo caso è un sacerdote, è un irlandese cattolico. Però diciamo che le analogie con il nostro più famoso indagatore dell'incubo finiscono qui. Perché? Perché innanzitutto, quantomeno per i numeri di Dilan Dog che ho letto io, Dilan Dog non ha mai attinto realmente alla mitologia cattolica, la mitologia esoterica, la mitologia demoniaca, in senso approfondito, è sempre stato quasi tutto inventato di sana pianta. Mentre qui già si parla, si nominano cose particolari. Già nel primo numero si parla di Grimorio, che sono i libri di magia scritti nel Medioevo, si parla apertamente di determinate pratiche, anche di esorcismo, ma nonostante questo, nonostante si attinga molto alle leggende, per esempio nel numero due si parla di un cimitero realmente esistente, nonostante questo c'è tutta una teoria nuova su ciò che sono i demoni. Questo ve lo voglio dire perché comunque uno che va a affondare le mani in questo fumetto e vede, chissà, qualcosina di paranormale, di esoterismo, dice ok, finalmente si parla di qualcosa di verosimile che attinge comunque alla mitologia reale, però vira subito su una teoria tutta frutto della mente dell'autore, che dice che i demoni non sono appunto esterni all'uomo, ma i demoni nascono all'interno dell'uomo. Poi ovviamente da questa mitologia che ha creato Gianmarco Fumasoli, ovviamente si deve interpretare il senso metaforico di questa cosa, che è molto bello, è molto profondo, però qua lo si intende proprio in senso letterale. I demoni nascono, vengono come covati dalle nostre paure, dalle nostre emozioni negative, dalle nostre ombre, dalle nostre ombre nascono i demoni. Ciò nonostante questi demoni comunque non rispondono a noi, ma rispondono a il maligno, quindi comunque si ritorna sulla più classica mitologia cristiana. Con questa piccola digressione che Fumasoli ha fatto sulla genesi dei demoni si è creato un suo piccolo universo che non può far altro che sbocciare. Poi, quando io ho letto il numero uno, ho detto innanzitutto, ho un numero uno di Samuel Stern che vi consiglio a prescindere di comprare, anche se non vi piace, so che è una paraculata quella che sto dicendo, però commercialmente il numero uno di Dylan Dog oggi vale tra i 200 e i 300 euro. Quindi il fatto di possedere tra le mani il numero uno di quello che potrebbe diventare un fumetto molto famoso tra qualche anno mi fa sentire quasi un vero collezionista. Ma al di là di quello, sfogliandolo, mi sono detto, cavoli, da un certo punto di vista la storia è molto ben costruita, sicuramente è costruita meglio del numero uno di Dylan Dog, che lo si vuole ben vedere. È una strana storia di zombie, ma è scritta in modo strano, è vero che è scritta in modo strano dalla penna di Tiziano Sclavi, però, così puramente come storia, dici, vabbè, questo qua è un investigatore, gli arriva una cliente, lui dal nulla si alza e dice che è innamorato di lei, vuole baciarla, dici, ma che cazzo stiamo leggendo? È molto strana come cosa. Qua invece è come leggere un primo episodio di quello che potrebbe essere un telefilm sceneggiato molto bene. Allo stesso tempo, quando ho letto questo, ho detto, sì, è strutturato meglio di Dylan Dog, ma probabilmente non raggiungerà mai gli alti che Dylan Dog ha raggiunto nella sua carriera. Johnny Freak, io per esempio adoro Il Male, ma anche Memorie dall'invisibile, Storia di Nessuno, Golconda, tutte le storie più famose, probabilmente questo Samuel Stern, proprio perché tiene una sceneggiatura molto corretta, molto giusta, senza sbalzi, probabilmente non raggiungerà questi picchi, non raggiungerà neanche i passi di Dylan Dog, magari. E questa è un po' la pecca che potrebbe penalizzare questo fumetto, perché quando una cosa è costante, probabilmente non salta l'attenzione del grande pubblico, per quanto il mondo di chi legge i fumetti possa essere definito grande pubblico. Da un altro punto di vista, i disegni del primo numero non mi hanno colpito particolarmente, ho notato poche ombre, disegni molto netti, molto veloci, però appunto con poche ombre. Lo dico io che a 34 anni non ho ancora imparato a disegnare le ombre e ho detto, e anche i disegni sono un po' puliti, magari per un primo numero nel 2019 avrei usato un disegno un attimino più elaborato. I disegni sono nel primo numero di Luigi Formisano, nel secondo numero i disegni sono di Luca Lamberti. Nel secondo numero mi sono già ricreduto, i disegni cambiano radicalmente. Ci sono molte più ombre, ci sono molti, innanzitutto ci sono dei disegni un attimino più articolati, c'è una, non dico una splash page, perché comunque si apre così il numero, però c'è una chiesa disegnata subito, c'è un mausoleo, ci sono anche solo, ecco qua, vi faccio vedere le ombre del mausoleo, cioè sono migliorati tantissimo, già dal primo al secondo numero, dove probabilmente nel primo numero si voleva dare più accento alla storia. Ecco, vedete com'è molto più, quasi, è quasi un tratto che si presta più a storie più leggere. Infatti questo ho detto, se si tiene questo tratto, comunque c'è quasi una discrepanza tra quello che si racconta e quello che si vede. Già nel secondo invece ecco un'altra immagine, tutte queste ombre, questo gioco di luce e ombre è fatto molto bene. Ovviamente, l'ho dato per scontato, scusatemi, è in bianco e nero, esattamente come i numeri della Bonelli. Se vi sentite un po' orfani di Dilan Dog, per motivi citati all'inizio, cioè del fatto che Dilan Dog sta prendendo una virata diversa dal Dilan Dog delle origini, e il Dilan Dog che uscirà a fine gennaio, che è il 401, non vi piacerà, perché io vi consiglio ovviamente di comprarlo e leggerlo, e poi vediamo cosa sarà di questo nuovo ciclo. Se non vi piacerà, vi consiglio di comprare Daniel Stern, ma anche se continuerete a leggere Dilan Dog, vi consiglio di aggiungere anche Samuel Stern alla vostra libreria, perché nello spazio della mente, nello spazio della fantasia, non c'è limite, c'è limite solo al portafoglio, però altra mossa, tra l'altro balossa, come si dice qui al nord, il costo è di 3,50, ovvero il costo che aveva Dilan Dog prima dell'aumento del prezzo recente che ha subito, che ora è a 3,90. Non so se sono tutte mosse volute o casuali, ma credo che ci siano tanti ingredienti, sia a livello di trama, sia a livello di uscita commerciale, che possano, tra virgolette, soppiantare il nostro indagatore dell'incovo. Voi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Samuel Stern, se non lo avete ancora letto, correte in edicola a prendere il primo numero, però non so se lo trovate ancora, il primo numero era di novembre, e il secondo numero, scusate, il primo numero e il secondo numero, leggeteli, e fatemi sapere qui sotto nei commenti, cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se siete esperti di questo argomento, magari parliamo anche un attimino di questi argomenti un po' più esoterici, magari parliamo al contrario a mezzanotte di fronte allo specchio, così vediamo se appare qualcuno, e io come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto, e ci vediamo al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.